Come detto giustamente da Roberto Benigni nel corso degli appuntamenti televisivi con Ascolti Record sui Dieci Comandamenti, oltre al padre e la madre, oggi bisognerebbe estendere il quarto comandamento anche ai nonni. In una società dominata dalla precarietà e insicurezza lavorativa occupazionale, dove la pressione fiscale è alle stelle e il caro vita non è da meno, i nonni sono oggi più che mai un ulteriore punto di riferimento e sostegno per i propri figli e nipoti. Anche per quest'ultimo dell'anno abbiamo quindi fortemente voluto dedicare un pensiero speciale proprio a loro, attraverso una bella poesia di un autodidatta formiano, Francesco Treglia, anche egli padre e nonno amorevole, il quale dedica questi suoi versi soprattutto a quei nonni che avrebbero voluto essere più vicini ai nipoti ma che non hanno avuto il tempo, ma anche questo fa parte del gioco della vita. Questa poesia è l'anziano, tanti anni, tanti, dedicati al lavoro, un sol pensiero avevano il mio cuore, potermi riposare un giorno anch'io, andare in pensione e godermi la vita, andare a zonzo, giocare con i nipoti e raccontar loro la mia vita terrena, vissuta, concioia, sacrificio e dolore per guarambiarmi un tozzo di pane, ma la vita cambia, ci sono acciacchi e malanni, amici scomparsi, ci mani nel nulla, ogni anno a novembre una foto io vedo, oddio, il mio vecchio compagno di scuola, anche lui mi diceva, Francesco, quando andrò in pensione giocherò con i nipoti, li porterò ai giardini, in Pineda, farò il nonno a tempo pieno, ma tutto ciò non si avrà per tutti, non siamo in tanti a godere quel frutto, questo va per i miei amici e per tutti i nonni scomparsi in quest'anno.